Manca un mese all'apertura generale della stagione venatoria 2016-2017 in Sicilia. Il calendario definitivo è stato pubblicato proprio qualche giorno fa sulla Gazzetta Ufficiale, in cui vengono indicati anche tutti i dettagli relativamente ai periodi, modalità, nonché limitazioni per chi effettua tali attività anche in relazione ai luoghi e specie animali cacciate. La settimana venatoria comincia il lunedì e termina la domenica. Ciascun cacciatore, munito di tutti i requisiti e richiesti per poter effettuare tale attività, può scegliere tre giornate di caccia settimanali, escludendo però i giorni in cui l'esercizio viene vietato, e cioè il martedì e venerdì, e consentito cacciare durante tutta la giornata, a partire da un'ora prima il sorgere del sole sino al tramonto. Il 18 di settembre dunque, per gli appassionati di caccia, sarà possibile effettuare tale attività, mentre vengono concessi solamente gli appostamenti temporanei per alcune specie di animali, già a partire dai primi di settembre, in occasione della preapertura.